Ricorderete nella puntata di ieri, chiaramente per quelli che ci seguono, che ringrazio con una certa costanza, che ci seguono con una certa costanza, che ringrazio anche, devo ringraziare con una certa costanza, oggi giochiamo con le parole, ricorderete di quel racconto dello scoiattolo, bene, alla fine la sostanza, l'insegnamento era questo, che noi siamo felici finché siamo capaci di stupirci, sì, lo stupore, lo stupore, diceva Chesterton, è il futuro del mondo, quando l'uomo cesserà di meravigliarsi, di stupirsi, allora non ci sarà più la felicità, ed è vero, lo stupore, la capacità di stupirci delle piccole cose, guardate, quando si va per esempio nei viaggi, faccio un esempio a Manhattan in America, a New York, e si vedono questi grandi grattacieli, ah la gente vedo che resta senza parole e con la bocca aperta, sì, anche quello è stupore, perché ci stupiamo di cosa l'uomo è capace di fare, ma dovremmo anche essere capaci di stupirci di un raggio di sole che spacca un cielo nuvoloso o che piove, di stupirci delle formichine piccole, invisibili che lavorano e che hanno tutta una loro logica, una loro regola di vita, stupirci delle piccole cose, del sorriso di un bambino, oppure di un bambino che ti guarda con quegli occhioni belli vispi e che ti interrogano e che ti inquietano a volto anche il cuore, stupirci, la capacità di stupirci. Ma io sono felice? Tu sei felice? È una domanda, ripeto, che tutti ci poniamo e che spesso rispondiamo dicendo, ma come si fa ad essere felici? Non è facile essere felici, è vero, per alcuni aspetti non è facile, ma dipende da cosa? Dal cuore, da dove guardiamo, dipende come guardiamo, dipende dalle cose che noi riteniamo importanti, tutto ciò dipende dalla vita dell'uomo. La felicità è nel cuore di tutti, anche di chi dice che è infelice, perché? E qui torna il discorso fatto qualche altra volta, sentite proprio agli inizi dei suoi esercizi spirituali cosa Sant'Ignazio di Loyola scrive, dice l'uomo è stato creato per lodare, per riverire e servire Dio nostro Signore e mediante questo salvare la propria anima. Questa è la felicità, Dio ci ha creato per amarlo, per servirlo e servirlo anche e soprattutto nei fratelli, negli ultimi, nei poveri, in chi ci sta accanto? E questo amare, questo lodare, questo servire Dio ci porta a salvarci l'anima e questa è la felicità, certamente la felicità per noi credenti, ma quello stesso seme è stato lanciato, è stato buttato da Dio nel cuore di ogni uomo, di ogni persona, nel mio cuore, ma anche nel tuo cuore, riflettici. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!